pronti via vi voglio concentratissimi perché vi devo dire una cosa pazzesca il 22 aprile vicino e snai per voi ha messo in palio 2000 euro in token in un free roll fantastico come fare per scoprire la password beh non è proprio difficile per niente dovete venirci a trovare sulla pagina facebook snai poker cliccare mi piace per scoprire la password e non solo per quello non vorrete mica fermarvi a una password ad un free roll la nostra pagina è aggiornatissima sempre con le classifiche i contenuti avrete così la possibilità di parlare di guardare di pubblicare con tutti i giocatori del team pro live capitanato da dino break e quello dell'online capitanato dalla nostra splendida micha michi una pagina dedicata al poker dedicata al poker disney ed io vi consiglio se non l'avete già fatto di cliccare mi piace e non di farlo tra un po subito lo dovete fare vi aspetto qui a tra qualche giorno